C'è una bellissima immagine negli atti processuali, dice Bruno esiste una grande anima del mondo, questa anima del mondo si rompe in un'infinità di frammenti di specchi, cioè delle singole anime, questi frammenti di specchi poi, una volta esaurita l'esperienza di vita di ciascuno, ritornano al grande specchio e dal grande specchio ritornano nuovamente come frammenti di anima nei singoli individui. Per il cristianesimo non è così, quando l'anima torna al grande specchio per continuare a utilizzare la metafora di Bruno, li resta e sulla base di quello che è fatto viene punita o viene premiato. Come direbbe Bruno, il circolo avviene una e una sola volta, questa è la immortalità e l'individualità dell'anima cristianamente concepita. Per Bruno non è così, il circolo non avviene una sola volta dell'anima, ma avviene infinite volte. E quando Bruno parlava di sé, diceva anche di sé stesso che lui ricordava di essere vissuto in altre forme che non erano appunto quelle di Bruno e non erano necessariamente quelle appunto di un corpo umano. E c'è una testimonianza di un suo compagno di carcere il quale dice che una volta in carcere, egli, questo suo compagno di carcere, aveva ammazzato un ragnetto e Bruno lo rimprovera e dice non ammazzare un ragnetto, chi sa quel ragnetto chi è stato, chi può essere, proprio perché in quel ragnetto ci poteva essere un'anima appunto che prima era stato di uomo e poi poteva diventare nuovamente dopo essere stato di ragno, nuovamente di uomo. Cioè c'è questo principio appunto della circolarità infinita delle anime che trasmigrono continuamente dal cielo alla terra e dalla terra al cielo a differenza appunto della teologia cristiana che immagina, come Bruno stesso dice, che il circolo avvenga una e una sola volta e che sulla base di quello che è stato fatto, quell'una e quella sola volta, la individuale anima immortale venga punita o premiata. Allora Bruno perché introduce il principio del merito individuale? L'ho evocato precedentemente il principio del merito individuale. Non lo fa affatto per un principio di carattere teologico, come fanno i cristiani, né lo fa perché crede in un Dio distributore di meriti e di castighi nei confronti della singola individuale anima immortale. Lo fa per un principio civile. Soltanto se l'uomo opera, soltanto se l'uomo si dà da fare, soltanto se l'uomo acquisisce meriti, soltanto se l'uomo, tutti gli uomini si battono per acquisire meriti, allora il convitto umano, la società degli uomini vanno avanti. La società dell'uomo va avanti attraverso i meriti degli uomini. Questa appunto, come ho detto prima, era la grande responsabilità dei riformati che cancellando l'opera e dunque cancellando i meriti, come dire, distruggevano le fondamenta della civiltà. Badate che qui c'è all'interno della posizione di Bruno addirittura una contraddizione o una forzatura perché se noi guardiamo la filosofia di Bruno e guardiamo al movimento degli atomi ai quali facevo prima riferimento, l'universo è tramato da atomi che entrano e nescono nei vari corpi, che danno vita ai vari corpi in un movimento incessante. Tutto questo avviene secondo, come dire, un movimento che non ha altra spiegazione se non nel movimento. Ma se Bruno avesse accettato questo principio toglierebbe il valore del merito. Allora nello spaccio della bestia trionfante, forzando la sua posizione, fa questo tipo di ragionamento. È vero, io che sono uomo posso diventare maiale e il maiale può diventare uomo, però io ho una responsabilità in questo e la responsabilità consiste nel fatto che se mi comporto in modo meritorio ritorno a essere uomino, se invece mi comporto in modo bestiale divento maiale, cioè stabilisce un rapporto fra la metempsicosi e il merito, cioè il movimento continuo delle anime dall'alto al basso e dal basso in alto, va in una direzione oppure in un'altra, verso l'uomo oppure la bestia, a seconda del modo in cui tu ti sei comportato nella vita precedente. Come ho detto, Bruno stesso appunto è così convinto della metempsicosi che ritiene egli stesso di essersi già incarnato, per così dire, in altre figure, anche possibilmente di bestie. Questo è un punto centrale nella sua filosofia ed è un punto del tutto inaccettabile da parte di un teologo come Bellarmino, perché questo liquida completamente la responsabilità dell'uomo, il tema della responsabilità individuale, il tema della individualità dell'anima, il tema della immortalità individuale di ciascun'anima, fa saltare assolutamente tutto.